Bronx esce il 15 marzo 2022, nasce da uno spaccato di vita degli anni 90-95 nella Pigna di due ragazzi che hanno appunto due vite completamente diverse, chi ha più difficoltà e chi meno e si sostengono comunque l'uno l'altro. Esce appunto il 15 marzo ed è il brano che ci ha portato al teatro Ariston alla finale di Sanremo Rock e di conseguenza abbiamo deciso di puntarci un po' di più sopra creando un video, regista di Gerlando, Riccardo, anche lui regista locale, molto bravo, ha fatto dei bei lavori, sono anche premiati, in questo momento sta facendo delle belle cose. Abbiamo fatto questo video girato nella Pigna che sarà, speriamo, l'apertura a un album, che o un album oppure continueremo a fare dei singoli. La Pigna è praticamente la mia culla, nel senso io sono nato, cresciuto lì e quindi per me è molto importante. Volevo anche togliergli un po' questa macchia nera che ha della fama, che è tutto brutto, tutto come fosse il Bronx, appunto, per citare il singolo. Sì, è vero che ci sono state delle difficoltà, ma come in ogni luogo c'è il bene e il male, quindi questo è quello che vuole rappresentare anche appunto il singolo. Quindi ha un gran valore per me la Pigna e dovrebbe essere rivalutata anche dalle istituzioni, dal comune stesso, da dargli un pochettino un po' più di amore, ecco, semplicemente. Tanto si spera per l'estate di incominciare a fare veramente un piccolo mini tour, magari in location mirate, non troppe, ma fatte bene ecco, per cercare di centralizzare gli eventi in maniera più professionale. Comunque nel Ponente, nella Riviera, in Peria, nella zona, ecco, inizieremo da qui. Ritorno ai due anni passati sono stati, come tutti, fermi abbastanza, a parte appunto la parentesi del Teatro Ariston, perché era tutto un concorso con le selezioni via web e invece poi le finali erano appunto fisiche e si poteva fare, perché a porte chiuse l'Ariston è molto grande, quindi si poteva fare. Quindi c'è stato quell'evento lì e il Rock in the Casbah, Piazza Baradolmo, che ci ha dato un bello spazio, abbiamo fatto un concerto di 40 minuti che si trova appunto anche su YouTube, se volete darci un'occhiata. Sicuramente tanti avranno smesso, ma in generale queste realtà piccole, come lo siamo anche abbastanza noi, non ci sono delle etichette discografiche, non ci sono comunque dei supporti professionali per le band in zona, ecco, c'è poco, c'è poco, devo dire la verità, quindi l'ambiente rimane un pochettino stantio, un po' morto. Se lo sapessimo, no, e penso di sì, ormai spero di sì più che altro, spero di sì anche per tornare a suonare, a far vedere tutto il materiale che abbiamo preparato appunto nello studio, che è il Monkey Beat, fondato da, ci tengo molto, ci tengo molto, da Mauro Martini, e voglio dire che anche senza di lui tutto questo non sarebbe accaduto assolutamente, quindi un enorme grazie, è una grande persona, ecco, semplicemente, la tengo nel cuore. Poi se posso vi puoi presentare la band, alla parte da sinistra c'è la batteria del mio grande Fabio Sacoccia, al basso Eric Boncore, il compagno di sempre, amico Marco Turchetto, chitarra e tastiere, alla viola c'è Ana, la bella Ana.